Buongiorno cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio ai giornali tutte le mattine alle 7.30 qui insieme a voi sfogliamo le notizie principali sul resto del Carlino, Corriere Adriatico che poi troverete naturalmente in edicola, faremo un escursus sulle maggiori notizie presenti sui quotidiani e naturalmente oggi faremo la stessa cosa, non prima però di aver visto l'almanacco del giorno e le previsioni del tempo Allora partiamo dall'almanacco del giorno, vediamo oggi giovedì 7 settembre la chiesa ricorda il beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.34 vediamo le previsioni del tempo che per oggi si presentano un po' all'insegna della variabilità c'è sole, ci sono le nuvole, c'è anche la pioggia, insomma quindi un cielo irregolare, nuvoloso particolarmente intenso la nuvolosità nella seconda parte della giornata però in serata ci saranno le schiarite e quindi ci sarà nuvolosità residua nel settore settentrionale non sono da escludere le piogge da fine mattinata, inizio pomeriggio anche a carattere di rovescio temporale, prima nelle zone interne e poi ci si sposterà, ci si sposterà il maltempo anche verso le quote collinari e la costa però nel tardo pomeriggio e in serata questi fenomeni saranno in esaurimento le temperature sono in diminuzione, quindi insomma una giornata nella quale le vedremo un po' tutte sole, nuvole, pioggia e vento previsioni per domani, venerdì ci avviamo verso il fine settimana scompare la pioggia però il cielo rimane irregolarmente nuvoloso le precipitazioni saranno prevalentemente in nottate nelle prime ore della mattinata e anche nel settore settentrionale della regione le temperature ancora in diminuzione nei valori minimi vediamo che cosa ci dice la proiezione della protezione civile delle marche per la giornata di sabato, primo giorno del fine settimana anche qui poco irregolarmente nuvoloso però aumento della copertura nella serata perlomeno le precipitazioni non ci saranno e le temperature lì risaliranno di qualche grado nella scala della colonnina di mercurio bene, questo è il tempo archiviato e passiamo alle notizie naturalmente ancora sia in cronaca nazionale che in quella locale è presente le notizie e il proseguo degli approfondimenti dello stupro di Rimini ma anche l'incendio ieri che c'è stato alla porto di Fano con un'auto che ha preso fuoco tre motorini coinvolti o tre scooter nel rogo e un'altra auto lì vicino è stata fortemente danneggiata e quindi partiamo subito con il resto del Carlino nella pagina di Fano che appunto parla di questo episodio con una documentazione fotografica sono le 10.30 fumo e fiamme all'improvviso torna la paura davanti allo scimitar che già in passato era stato aggredito dal fuoco questo è ciò che rimane dell'auto dalla quale è scaturito l'incendio da un cortocircuito nel vano motore poi si è stesa a tutto il resto dell'abitagoro e vedete insomma che cosa ne rimane nelle foto di quelli che erano i motorini parcheggiati lì vicino vigili del fuoco polizia locale che ha chiuso per agevolare le operazioni la strada tanti curiosi ma le operazioni si sono svolte in sicurezza anche gli uomini del commissariato di Fano quindi insomma una operazione svolta in grande rapidità e in grande anche sicurezza con i vigili del fuoco che hanno lavorato celermente e rapidamente perché guardate qual era lo scenario che si presentava ai loro occhi appena arrivati praticamente il Carlino dice un muro di fuoco un fumo nero denso che aveva già aggredito tutti i mezzi coinvolti e anche la qui c'è la nuova palazzina ristrutturata da poco dello Iate il punto di accoglienza turistica sul porto che fortunatamente è solo danneggiato nella parete esterna insomma poteva andare veramente peggio poteva essere veramente una mattinata di grande paura la gente appunto come dice l'occhiello del Carlino urlava c'era chi portava bottiglie d'acqua per spegnere l'incendio insomma si cercava di tamponare prima dell'arrivo dei vigili del fuoco cortocircuito appunto in questo SUV un Nissan Qashqai che appunto innesca l'incendio però andiamo nella pagina di apertura del resto del Carlino quella dell'inserto locale perché appunto dicevamo di nuovo puntata la cronaca su quello che è gli episodi legati agli stupri allo stupro di Rimini stupro di Rimini accuse ai milionerni marocchini il Rio Salso dice è un paese ostaggio i fratelli li spadroneggiavano furti continui e vandalismi ora parlano i residenti e spunta una nuova accusa per Butungo armato di coltello voleva violentare una ragazza e vedete insomma le forze dell'ordine i carabinieri al parco Miralfiore dove una quattordicenne aggredita da uno straniero che temeva tentava di stordirla con un grosso bastone dice la malcapitata mi ha salvata il mio cane e l'arrivo di un ciclista terrore al parco e quindi questo è per quanto riguarda la cronaca e poi in fondo pagina appunto il lancio dell'articolo che riguarda l'incendio al porto un bagnino poi notizia un po' più leggere si sposa sulla sulla sua spiaggia e scende con la sposa su un pattino e poi a Fano al via una delle manifestazioni più importanti per la città e il festival del brodetto e delle zuppe di pesce ma vediamo le faccio vedere insieme perché sono come sempre la pagina 2 e la pagina 3 spesso appaiate in un unico contesto e qui si parla appunto di quei ragazzi fermate quei ragazzi la polizia per fermare quei ragazzi la polizia ha fatto tutto il possibile dalle numerose denunce alla visorale parla il questore difficoltà del sistema tempi a volte non consentono di applicare nell'immediatezza le misure cautelari quindi insomma ci sono dei dei bug nel sistema che non permettono di essere così celeri così tempestivi nelle azioni e per evitare altre tragedie si può fare prevenzione ad esempio con l'avviso orale e poi il coinvolgimento di enti preposti all'educazione il questore Antonio Lauriola di Pesaro e traccia un po' la fotografia di quello che è il quadro anche accessorio di questa vicenda la mazzata la rischia solo Butungo il congolese può prendere fino a 20 anni pene invece dimezzate per gli altri e di fianco a pagina 3 appunto con il lancio che c'è stato nella prima pagina si riprende questo articolo un paese intero in balia dei fratelli quindi ora spuntano altre storie legate a questo gruppo parlano i residenti postavano su facebook ogni spostamento strano escalation del crimine e Ucchielli dice tornino in Marocco ora è giusto garantire la sicurezza il sindaco Palmiro Ucchielli di Vallefoglia appunto nel quale i minorenni residevano e l'altra vicenda portata in evidenza in prima pagina con la foto notizia eccola qua voleva stordire mia figlia e abusarne parla la mamma della ragazzina colpita la testa al parco Miralfiore da un africano i carabinieri vedete pattugliano con unità cinofile e personale specializzato e quindi arriva la denuncia non mi spiego in altro modo quello che è successo quel luogo è diventato molto pericoloso non ci andremo più siamo sconvolti per l'accaduto queste le parole della mamma della madre della ragazza coinvolta in questo brutto episodio ancora una volta al parco Miralfiore la pagina di Fano già ve l'ho fatta vedere vi faccio vedere per il resto del carino la pagina di Urbino si parla di sanità proseguono i lavori nuovi spazi per i volontari dell'accoglienza il dottor Cani medico del presidio riassicura avranno un'area predisposta nuova logistica quindi a fine ottobre si ultimerà la porta Girevo il bar il punto di ristoro e l'edicola l'ospedale appunto di Urbino sotto il dottor Andrea Cani e il nuovo ingresso dell'ospedale della città Ducale ancora naturalmente presente nella pagina iniziale come nel carlino sul corriere adriatico l'incendio al porto incendio paura e gravi danni distrutti auto moto scooter annerita la facciata dell'ufficio turistico e poi anche qui la notizia dell'aggressione al parco aggredita con una mazza quell'uomo voleva abusare di me denuncia di una ragazzina minorenne di 14 anni salvata dal casuale arrivo di un ciclista e anche del suo cane poi in testa di pagina ci sono i rimpianti di valentino rossi che non parteciperà al gp di misano e quindi per lui un po' di amarezza e quindi per lui un po' di amarozza e poi benvenuti al lido di pavarotti commozione sotto villa giulia cerimonia di intitolazione della spiaggia della baia nel giorno del suo compleanno si terrà un concerto per ricordare lo scomparso maestro anche nel Corriere Adriatico si focalizza un po' sui risvolti della vicenda di Ghermin Butungo e del suo branco e qui lo vedete in una foto dove lui spesso si faceva selfie di questo gene giacca cravatta ben vestito insomma l'immagine che dava di sé era tutt'altro che quella che poi si è rivelata nessuna istanza di scarcerazione per il branco stupri di rimini pure i legali stanno ricevendo minacci legali dei difensori e poi sbarcano profughi nella in baia ma sono dei diportisti in gita allertate guardia costere e polizia per una barca alla foce del foglia ma poi insomma eccola qua ma poi si accerta sia pura che sono dei diportisti che stavano attraccando la barca insomma adesso si sta tutti un po' come dire con le orecchie le orecchie tese e vigili e qualsiasi cosa che magari tempo fa non ci avrebbe non ci avrebbe detto niente di che adesso subito ci desta un po' di allarme e un altro quartiere di Pesaro ci tiene a dire che non siamo il Bronx si fa discutere un servizio televisivo su Villa San Martino un servizio del Tg2 il quartiere dove risiede appunto il giovane nigeriano arrestato e dicono i residenti noi non siamo il Bronx di Pesaro il presidente della circoscrizione dice hanno parlato di giri di droga non accettiamoci simili affermazioni episodi spiacevoli questi episodi spiacevoli insomma quello che avviene un po' nella micro criminalità in quasi tutti i quartieri d'Italia e insomma delle nostre città non sono la regola insomma ecco è c'è di cui stare sul che va là ma non siamo appunto un Bronx citando il noto quartiere new yorkese insomma crogiolo di tanta criminalità è appunto preso ad esempio questo tanto per dire perché citano il Bronx pronti a raccogliere le firme sulla sicurezza a lista civica di Santini alla Lega fino a Fratelli d'Italia per il 24 si annuncia una protesta silenziosa la stazione appunto di Pesaro con le sue immediate vicinanze è tra i luoghi dove ci si concentra e si richiede la maggiore sicurezza appunto l'aggressione al parco Miralfiore è lo spunto per commenti reazioni politiche protesse di piazza e anche un gruppo su Facebook naturalmente la rete la rete ha un'importante funzione di volano per queste cose sia ad amplificare che anche alle volte a smorzare parliamo di altro si parla di altro anche nelle pagine del Corriere Adriatico come dei mondiali di ginnastica che è stato sicuramente un successo a tutto tondo tutto il mondo con gli occhi puntati sull'Italia e su Pesaro che li ha naturalmente accolti mezzo milione di incasso alberghi pieni grandi risultati sportivi non solo gli applausi ma anche le grandi prestazioni delle atlete ben 22.410 spettatori nelle cinque giornate di gara veramente un afflusso importante ieri si è tracciato un po' insomma il sunto della manifestazione a bocce ferme come si dice quelli che sono stati insomma i giorni del mondiale andiamo a Tavuglia vi porto a Tavuglia dove appunto c'è stata l'accoglienza e un abbraccio grande a Vale e poi la manifestazione anche pensata come vetrina per il GP di Misano si trasforma in un atto d'amore per Rossi sul palco la mamma tanti colleghi del moto mondiale per i migliaia di appassionati che sono in pellegrinaggio si era organizzato anche come anno scorso un maxischermo ma c'erano diverse iniziative per il GP di casa e qui vedete Valentino Rossi che torna a casa in sedia a rotelle un muro dipinto di giallo sarà aperto e scritte e saluti dei tantissimi fan del campione di Tavuglia e andiamo nelle pagine di Fano del Corriere si parla però come apertura di vaccinazioni già in regola sette bambini su dieci un gran lavoro è stato fatto per portare alla regolarità tutti coloro che dovranno frequentare gli istituti scolastici l'assessore mascherina è soddisfatto degli uffici ed è anche della risposta dei cittadini dei fanesi la collaborazione appunto che c'è stata per questo ed eccolo qui l'articolo che anche il Corriere fa scrive Massimo Foghetti appunto sull'incendio che c'è stato al porto fiamme alte fumo nero bruciati automoto e due scute grave rischio anche per la nave per il ristorante scimita il ristorante galleggiante che è veramente a due passi da dove è avvenuto ecco questa è la banchina del porto e lo scimitar è qui praticamente ecco in questa posizione qui quindi a pochissimi metri e quindi insomma c'è stato veramente una situazione molto molto critica che si è verificata subito messa in sicurezza nell'arco di pochissimo tempo dai vigi del fuoco vi dicevo appunto una delle manifestazioni più importanti per la città di Fano a fine stagione estiva sta per aprire i battenti apre i battenti fra poche ore ed è il festival del brodetto delle zuppe di pesce dove quest'anno si tiene una sfida a colpi di pesce e di sugo di pomodoro sfida Serbia e Spagna che naturalmente come l'Italia e come tante altre nazioni e città che si affacciano sul mare ha nel proprio DNA gastronomico la zuppa di pesce o quello che è insomma pensiamo anche alla Francia con la buia besse insomma ce ne sono tante nel pomeriggio l'inaugurazione a Lido è un ricco programma fino a domenica e insomma e quindi gli amanti di questo di questo popolare piatto saranno di che insomma avranno di che dilettarsi e poi arriva anche il popolare Giorgione che sarà il primo degli attesissimi ospiti dei cooking show che si terranno sul palco centrale insomma stasera ci saremo anche noi di Fano TV per darvi un po' conto di quello che sarà lo start di questa manifestazione con un collegamento ed uno speciale andiamo a Urbino nelle pagine che riguardano l'interno della nostra provincia perché c'è stato un investimento di un branco di lupi con gravi danni al mezzo due però di questi muoiono altri sono stati feriti gli animali sono sbucati di notte sul rettilineo tra Fermignano e Urbania spavento e anche tanta rabbia il rettilineo è un rettilineo veramente molto lungo per cui insomma non ci si aspetta certo di trovare animali lungo la strada al volante un giovane che dice non ho potuto evitarli danni all'auto ma non andavo forte però insomma pararseli davanti sicuramente non è una bella avventura nella pagina che riguarda la Val Cesano scontri sui debiti fuori bilancio siamo a terre roveresche quindi consiglio comunale acceso sotto accusa la minoranza dalla minoranza la gestione di San Giorgio onere scaricato sul nuovo comune poi e parla l'ex sindaco di Piaggio Maurizio Cionna che dice la spesa è stata dichiarata esigibile nel 2017 con l'ente locale sciolto quindi politica nella pagina della Val Cesano e poi il mondo dell'enologia nel mondo dell'enologia pesarese perde uno dei suoi protagonisti addio al maestro dell'enologia creò il Triso di Monteseco Massimo Schiavi si è spento a 79 anni i suoi vini esaltati da Luigi Veronelli lo vedete qui Massimo Schiavi nel 1963 fondò l'azienda con il padre un'azienda agricola dove produsse vini di grande eccellenza come il Triso di Monteseco quindi siamo a Pergola dove lui ha scritto la storia dell'enologia locale quindi insomma questo è andiamo a Senigallia l'ultima pagina che vi faccio vedere c'è insomma cronaca ma anche l'avviso di una nuova immissione nel mercato di un supermercato particolare nasce il supermarket per indigenti spese gratis con la card prepagata chiediamo il modello ISEE e aiutiamo tutti coloro che vengono qui associazione stracomunitari Mohamed Mali lui insomma accordo tra e ha fatto l'accordo con Caritas e Comune per agevolare le famiglie in difficoltà si comincia però l'anno prossimo sarà in via Cattaneo appunto l'associazione stracomunitari che smista frutta e verdura e vedete purtroppo qui un'immagine molto eloquente abbastanza frequente purtroppo dobbiamo dire nei nostri ipermercati nei nostri supermercati un anziano una donna anziana che guarda nei cassonetti se c'è qualcosa da portare via perché purtroppo non si riesce ad arrivare con certe pensioni a fine mese e la spesa e le medicine sono sicuramente dei numeri nel bilancio di queste persone tra i più importanti e allora questi sono purtroppo i risvolti bene se c'è qualcosa che combatte questa purtroppo piaga sociale che c'è anche nella nostra società e con questo è tutto vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e in compagnia di Fano TV per iniziare la pagina dell'informazione della giornata con Occhio ai giornali che tornerà naturalmente domani mattina alle 7.30 e questa sera il telegiornale 20.30 Occhio alla notizia grazie buona giornata a tutti voi a tutti i giornali a tutti i giornali a tutti i giornali